Benvenuti! Oggi ho preparato per voi una classifica di prodotti che ho trovato davvero interessanti. Non vi svelo nulla per ora, ma posso garantirvi che ci saranno delle sorprese. Scoprite tutto subito dopo la sigla. Per non perdere le migliori offerte quotidiane, unitevi subito al nostro canale Telegram. Link in descrizione. Numero 5 Il Sony Xperia 5i V offre un'esperienza straordinaria per gli amanti delle foto e dei video. Con una fotocamera posteriore tripla da 12 più 12 più 12 megapixel e la potenza del chipset Snapdragon, è perfetto per catturare momenti speciali in 4K a 120 fotogrammi al secondo. Nonostante la ricarica lenta e l'assenza del cavo in confezione, il suo display OLED con risoluzione 2520x1080 pixel e i 5000 mAh di batteria garantiscono una visione e un'autonomia eccezionali. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 4 Sony Xperia 10i V è uno smartphone impressionante che si distingue per la sua certificazione contro l'acqua e la polvere, IPX5 e 8, e uno zoom ottico 2x. Uscito a giugno 2022, è dotato di un sistema operativo Android 12 e di un potente chipset Snapdragon 695 5G. La RAM di 6 GB e la memoria espandibile fino a 1 TB offrono grande capacità. Tuttavia, richiede due ore e mezza per una ricarica completa e manca il cavo di ricarica in confezione. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 3 Sony Xperia 10i offre un'esperienza solida con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile. Il display Triluminous da 6 pollici offre colori precisi, perfetti per chi ha mani piccole. Dotato di un comparto audio di qualità superiore e con hardware certificato, è resistente all'acqua. La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga autonomia, anche se la ricarica completa richiede due ore. Può registrare video fino a risoluzione Full HD, e supporta reti 5G. Tuttavia, lo slot per la seconda SIM è condiviso con l'espansione della memoria. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 2 Sony Xperia 10i è uno smartphone robusto, resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP65 e IP68. Ideale per chi ha mani piccole o preferisce l'uso con una mano, offre un'ottima autonomia grazie alla batteria da 4500 mAh, ma necessita di due o tre ore per una ricarica completa. Le fotocamere posteriori sono versatili e producono buoni scatti, sebbene i selfie non siano eccezionali e manchi l'audio stereo. Con il display OLED da 6 pollici e il supporto alle reti 5G, è una scelta solida per molti utenti. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 1 Lo smartphone Sony Xperia 1V si distingue per il suo schermo OLED da 6 pollici e mezzo con una risoluzione di 1024 x 600 pixel. Impermeabile e resistente alla polvere grazie alle certificazioni IP65 e IP68, offre anche un'esperienza audio di alta qualità a 24 bit e 192 kHz. Il processore Snapdragon 8 generazione 2 e la RAM da 12 GB garantiscono performance eccellenti. Tuttavia, richiede un'ora e mezza per ricaricarsi completamente e la confezione non include il cavo di ricarica. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione.